Quanto abbiamo imparato, vediamo di applicarlo a questo che è probabilmente uno dei testi più grandi che l'umanità abbia prodotto. E' l'inno all'ogos conosciuto come prologo di Giovanni. Sono 18 versetti, tutti quanti lo conosciamo. Questo testo che noi leggiamo di seguito è un testo che invece ha delle sorprese. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, a quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni le dà testimonianza e proclama Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio di unigenito che è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Bello? Allora, se noi riprendiamo da capo, qui troviamo un imprincipio che pone il Verbo nell'eternità, prima del tempo. Poi, al versetto 9, noi abbiamo questo Verbo che viene nel mondo. Quindi, prima del tempo, versetto 9, nel mondo. E poi, se andiamo avanti, a un certo momento troviamo il pronome personale, noi. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo. Ecco, dal versetto 14 in poi, abbiamo il Verbo nella comunità credente. Quindi, il Verbo prima del tempo, il Verbo nel mondo, il Verbo nella comunità credente. Questa è la suddivisione che gli esegeti moderni fanno di questo testo. La scuola esegetica più seria invece dice, stiamo attenti, questo testo è composto, perché il versetto 6, 7, 8 non è originale. Se noi esaminiamo il testo greco, questa parte, il 6, il 7 e l'8, non ha lo stesso vocabolario del resto, lo stesso stile, sintassi e stilistica. E ci accorgiamo, al di là del contenuto, che non è la stessa penna, dunque, che ha scritto i primi cinque versetti. I primi cinque versetti sono stati scritti da un tizio e questi sono stati scritti da un altro tizio. Poi, leggendo attentamente il contenuto, ci accorgiamo che questi tre versetti parlano di Giovanni Battista. La cosa interessante è che lo stesso stile vocabolario e contenuto di questi tre versetti lo troviamo al versetto 15. Queste vengono chiamate le cosiddette glosse battiste. Ma ci sono anche altre glosse, perché la grammatica non funziona. Al versetto 12 A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio? A quelli Notate che ha un dativo Che si riallaccia a questo dativo Ci siete? Sotto il profilo puramente sintattico e troppo lontano Si vede che è una glossa Di tipo esplicativo Perché? Cosa vuol dire diventare figli di Dio? Il presupposto è questo Credere nel suo nome I quali Non da sangue Né da volere di carne Né da volere di uomo Ma da Dio sono stati generati Per questo si sono chiamati figli di Dio Questo dunque È una glossa esplicativa Che spiega questo concetto Non è chiaro? Non è chiaro Allora Partiamo dal vestito Quando noi vediamo una persona Vediamo il vestito E diciamo È grasso È magro È la forma Ora Ora se noi esaminiamo la forma del versetto 12 Ci accorgiamo che c'è Questo casus pendens Cioè dove lo appendiamo noi Questo pronome Lo possiamo appendere A questo dativo È una ripresa di questo dativo Ma sotto il profilo sintatico È un dativo troppo lontano Perché Questo dimostrativo Dovrebbe avere In questa zona L'aggancio Mentre invece Questo pronome All'aggancio qui È all'aggancio qua Allora Sotto il profilo Della prosodia Noi abbiamo Un pronome Che è funzionale A questo pronome Ci siamo? Bene Questo brano Così strano Sotto il profilo Grammaticale È corretto Ma sintatico No Cosa spiega? Spiega Questo tipo di Affermazione Non spiega Tutto il resto E allora Viene chiamata Glossa esplicativa Di queste glosse esplicative Ne troviamo ancora E questa volta Al versetto 17 Per spiegare Questa strana Espressione Del versetto 16 Dalla sua pienezza Noi tutti abbiamo ricevuto Grazia su grazia E che accidenti è questa grazia Grazia su grazia Grazia vuol dire Cosa data gratuitamente Allora La prima cosa data gratuitamente È stata la legge Per mezzo di Mosè Mentre invece Questa seconda grazia Grazia è la verità E la verità La verità Perché questa espressione È un endiadi Non sono due cose Sono due parole Per indicare una cosa sola La grazia La grazia della verità Venne per mezzo Di Gesù Cristo Questo è il concetto A livello poetico Si dice La grazia È la verità Ma essendo un endiadi Ciò che importa È questa qui Quindi La legge Per mezzo Di Mosè La verità Per mezzo Di Gesù Cristo Ci siete? È Un versetto Esplicativo Che mi chiarisce Che cos'è Questa roba qua Allora Se io riparto Da capo L'inno al Logos Non è più Quello che abbiamo Letto prima L'originario Quello che noi Troviamo Qui E quindi Probabilmente Ma bisognerebbe Fare ancora Un altro passaggio Ma sono già Le undici E Sette minuti Non riusciremo A farlo Pazienza Possiamo arrivare Fino a qua Noi siamo partiti Da qui Abbiamo Studiato Il testo E abbiamo detto Ci sono due tipi Di aggiunte Le aggiunte Di tipo Battista Poi vedremo Quando sono state Fatte E le aggiunte Di tipo Esplicativo E vedremo Quando sono state Fatte Il testo Originario Dunque Sarebbe In principio Era il verbo Il verbo Era presso Dio Il verbo Era Dio E lì era in principio Presso Dio Tutto è stato fatto Per mezzo di Lui E senza di Lui Nulla è stato fatto Di ciò che esiste In Lui Era la vita La vita Era la luce Degli uomini La luce Splenda Nelle tenebre Le tenebre Non l'hanno vinta Veniva nel mondo La luce vera Quella che illumina Ogni uomo Era nel mondo E il mondo È stato fatto Per mezzo di Lui Eppure il mondo Non lo ha riconosciuto Venne fra i suoi I suoi Non l'hanno accolto A quanti però Lo hanno accolto Ha dato il potere Di diventare Figli di Dio E il Verbo Si fece carne Venne da abitare In mezzo a noi E noi abbiamo Contemplato La sua gloria Gloria come Del figlio unigenito Che viene del Padre Pieno di grazie Di verità Notate Dalla sua pienezza Noi tutti Abbiamo ricevuto Grazia su grazia Dio Nessuno l'ha mai visto Il figlio unigenito Che è Dio E che è nel seno del Padre Lui che lo ha rivelato Appunto Questo è il testo originale Quindi noi possiamo dire Sì Questo Inno al Logos Che noi leggiamo Nel Vangelo È un testo Formidabile Poi arriva il Biblista Che dice Sì è formidabile Ma inquinato Inquinato da che cosa? Da queste glosse Giovannee Quando sono state introdotte Tanti voi Ditemi di sì Anche se vi si allunga il naso Conoscete benissimo Gli Atti degli Apostoli Negli Atti degli Apostoli Viene detto con chiarezza Che Paolo A Efeso Incontra un gruppo di discepoli Di Giovanni Battista E discute con loro Perché i discepoli di Giovanni Battista Pensavano Che fosse Giovanni Il Messia E questi qui si convertono Quando noi abbiamo Chiamiamoli I Battisti Che entrano Nella Chiesa di Gesù La figura di Giovanni Diventa importante Allora voi avete Luca Che vi narra I Vangeli dell'infanzia Su un dittico Annunciazione della nascita Di Giovanni Annunciazione della nascita Di Gesù Nascita di Giovanni Nascita di Gesù Circoncisione di Giovanni Circoncisione di Gesù Ma questo nasce Dopo Che Paolo Ha convertito I discepoli di Giovanni Perché entrino nel cristianesimo Le glosse Vengono messe In questa occasione Il nostro maestro era importante Sì avete ragione Era importante Trac Ma allora Questo cosa sta a dire Che l'inno al Logos È antichissimo L'originario Inno al Logos È Precedente L'incontro Di Giovanni Con questi discepoli Del Battista Dunque Questo inno È stato Composto Prima Che i discepoli Del Battista Facessero parte Della Chiesa Quando questi discepoli Hanno cominciato A far parte Della Chiesa In omaggio Al Battista Vengono aggiunti Queste glosse In modo che Tra il verbo Fatto carne E il Battista Ci sia un legame Ben preciso Ma subordinato Vi è chiaro? Quando verso la fine Del primo secolo La dicitura ebraica Viene persa? Questa è dicitura ebraica Grazia su grazia È un modo di dire Ebraico In Turchia Ben presto La Chiesa Ha cominciato A dimenticare Le radici Ebraiche Perché La Chiesa In Turchia È a maggioranza Pagano Cristiana Allora c'era il bisogno Di non dimenticare E viene messa La glossa Quel grazia Su grazia Significa La legge di Mosè Prima La letheia Che di per sé Viene tradotto Con verità Ma vorrebbe dire Oltre che verità Anche autenticità Genuinità Cose essenziali Cose essenziali Quelle di vennero Per mezzo di Gesù Cristo Questa è Una specie Di spiegazione Esegetica Uno della scuola Giovannea Prima di chiudere Il Vangelo Infila dentro La spiegazione Esegetica Perché questa espressione Non veniva più capita Come questa espressione Non veniva più capita Perché? Perché siamo Alla fine del primo secolo Dove La dimensione sacramentale Prevale Sulla dimensione biblica Io sono cristiano Perché battezzato Alle origini del cristianesimo Io sono cristiano Perché Ho accettato Di credere in Gesù Cristo Facendo un cammino Di identificazione con Lui Quindi Io accetto Di essere discepolo di Gesù E di fare un cammino Di identificazione con Lui Quindi mi battezzo Alla fine del primo secolo Mi battezzo Quindi scelgo Di essere suo discepolo E' stato rovesciato Quindi alla fine del primo secolo La cosa più importante Era il sacramento Non La scelta Evangelica E allora il biblista E' costretto a spiegare Che cosa vuol dire A quanti lo hanno accolto Storicamente Storicamente lo hanno accolto Le persone Della sua epoca Noi alla fine del primo secolo Come facciamo Ad accoglierlo E quindi a diventare figli di Dio Non possiamo E l'esegeta spiega Guardate che accogliere Significa Credere E significa Credere Nel suo nome Cioè Gesù come si chiama Cioè Gesù come si chiama